Qualche anno fa, nel 2004, se non mi sbaglio, un gruppo di ricercatori di una università europea, credo olandese, ma non sono sicuro, ma di tutto il resto sono sicuro, condusse un sondaggio tra 33 scrittori europei di 33 diverse nazioni europee, uno per nazione, e chiese a loro se si sentivano degli scrittori europei e cosa significasse essere uno scrittore europeo. Quasi tutti i 33 scrittori delle diverse 33 nazioni europee rigettarono questa identificazione, questa etichetta e questa appartenenza. Io partirei da qui. In particolare uno di loro disse una cosa secondo me sintomatica, su cui riflettere, si chiama Dans Grunbein ed è un poeta tedesco, di lingua tedesca, considerato tra i maggiori oggi viventi. E lui disse sono nato troppo tardi o troppo presto per l'Europa? Ecco, secondo me in questa diciamo icastica formula del poeta tedesco è racchiusa buona parte della difficoltà che effettivamente tutti noi incontriamo nel contribuire ad una narrazione dell'Europa in cui riconoscerci e che sia fonte di una identità individuale o collettiva. Troppo tardi o troppo presto? Troppo tardi perché è indubbio che l'Europa è stata il centro di una suggestiva e coinvolgente narrazione collettiva fino all'altezza della formidabile generazione, della prima generazione post bellica direi, la generazione della ricostruzione cosiddetta, che fu capace di questa narrazione dell'Europa. Fu capace della narrazione dell'Europa come parte di un nuovo breve umanesimo che l'Europa conobbe e di cui fu protagonista nei primi decenni del dopoguerra. Un umanesimo che era, diciamo così, una religione laica dell'uomo che era suggerita e quasi imposta dall'immane distruzione che aveva visto l'Europa sprofondare nell'abisso della seconda guerra mondiale e narrazione che era in qualche modo suggerita e quasi dettata ai viventi da quello che Piero Calamandrei durante le discussioni per la Costituente in Italia chiamò il popolo dei morti. L'Europa era un campo di battaglia, i boschi e le pianure d'Europa erano disseminati di milioni di cadaveri e questi morti però in qualche modo marciavano insieme ai viventi e imponevano a loro e consentivano loro una nuova centralità della vita, intesa come sacralità della vita individuale. inizia con la tragedia della seconda guerra mondiale, quella che Annette Vivi-Or, che è una studiosa francese, ha chiamato l'era del testimone. Cioè la democrazia si rifonda sull'idea che l'unico metro possibile per misurare le cose della storia e della vita sia la vita e l'esperienza individuale. Nessun superstiti alla tragedia della seconda guerra mondiale è più disposto a rinunciare a questo criterio inviolabile di misurare la politica, la società, l'economia sul metro del proprio vissuto individuale. Le maligne astrazioni dell'ideologia totalitaria del novecento, la mistica meccanizzata della potenza militare della Germania, le promesse delle ideologie totalitarie, sono rigettate. Ciò che conta è l'individuo, l'uomo, la sua singola vita, la sua singola esistenza, la sua capacità di esperienza e su quello si deve misurare la storia e la politica. E su questo si rifonda la democrazia europea. È una, diciamo così, rivoluzione antropologica senza eguali. L'Europa diventa la terra in cui la sacralità dell'esistenza individuale, della capacità di esperienza dell'uomo diventa un paradigma assoluto a cui commisurare la storia e la politica. È l'era del testimone. Il racconto della vita di ciascuno ha lo stesso valore della vita di chiunque altro. illustre o non illustre che sia. Poi però si produce una frattura. C'è un'interruzione. Il poeta tedesco diceva sono nato troppo tardi o troppo presto. Proprio segnalando questa frattura che è intervenuta nella possibilità degli individui italiani, spagnoli, tedeschi, di sentirsi parte della narrazione dell'Europa. Secondo me questa frattura è intervenuta da qualche parte più o meno all'altezza della mia generazione, la seconda o la terza dopo la fine della seconda guerra mondiale, da qualche parte negli anni Ottanta. In un pomeriggio triste o annoiato degli anni Ottanta abbiamo, diciamo così, smarrito la capacità di sentirci parte di questa narrazione di emancipazione, di questo grande racconto. e non abbiamo ancora trovato la capacità di sentirci parte di un nuovo racconto che non sia più verosimilmente il portato della immane tragedia che le due guerre mondiali hanno disseminato nell'Europa e anche dell'epopea che quella tragedia ha portato con sé. è accaduto che comunque di nuovo, diciamo così, la vita europea, almeno dal punto di vista immaginario, scivolasse verso non benigne astrazioni, cioè l'Europa è ridiventata l'Europa di qualcosa incommensurabile alla base d'esperienza della vita individuale, è diventata l'Europa delle grandi burocrazie, delle plutocrazie, dei fantasmi mediatici, delle merci sfrenate, della finanza che ha smarrito ogni, ha reciso ogni legame tra capitale e lavoro, tra profitto e lavoro. di questa, diciamo così, inabissarsi della vita europea sul piano immaginario dentro una dimensione fantasmatica che non ha più una sua radice nell'esperienza, che non è più commensurabile alla vita individuale. Secondo me è sintomo molto interessante, per esempio, la nuova letteratura europea, quella prodotta da una generazione di scrittori che sta da qualche parte tra i 30 e i 50 e che, se ci fate caso, in molte, moltissime delle sue espressioni più interessanti letterariamente, attinge la propria materia narrativa alla storia tragica ed epica del Novecento. Molti dei libri, potrei citarne tanti, delle opere letterarie più interessanti prodotte oggi soprattutto in Francia, ma anche in Germania, in Olanda, in Italia, perché no, sono scritti da una generazione che non ha più nessuna connessione vivente, nessun legame anagrafico e biografico con le tragedie della Seconda Guerra Mondiale, l'Olocausto, le grandi rivoluzioni realizzate e mancate dal Novecento politico, i conflitti coloniali e postcoloniali, eppure raccontano di quelli. Cito uno soltanto per tutti, quello che secondo me è un indubbio capolavoro letterario, uno dei più significativi del nostro tempo, che sono le benevole di Robert Littel, e che ha l'audacia di narrare tutta la vicenda, diciamo così, del nazismo e dei suoi stermini dal punto di vista di un nazista, ed è scritto da un autore quarantenne di stirpe famiglia ebraica, ma di ebrei emigrati negli Stati Uniti e tornati in Francia sono agli anni 70 che non hanno nessun rapporto, diciamo, familiare e personale con l'Olocausto. Io lo chiamo romanzo della dopostoria, è un romanzo che sta dentro questo paradosso di una storia di cui ti puoi riappropriare proprio a partire dalla tua non appartenenza ad essa, dalla mancanza, dalla recessione di un legame vivente con quella storia. Secondo me questo, diciamo, romanzo dopo storico è emblema di questo impasse in cui noi ci troviamo, di questa impossibilità a riprendere la narrazione dell'Europa perché non siamo più gli eredi di quella... non ci sentiamo più eredi di quella narrazione che è stata al tempo stessa epica e tragica e che ha avuto la lotta e la battaglia per la storia al proprio centro. Lotta e battaglia per la storia sanguinosa, spesso sciagurata, addirittura demenziale, ma che comunque era animata da un profondissimo sentimento della storia che le generazioni di europei fino al periodo post bellico hanno portato con sé. Noi abbiamo smarrito questo, abbiamo smarrito non tanto la conoscenza della storia ma il nostro sentimento della storia, il sentimento di essere appunto parte individualmente di un racconto più grande della nostra singola esistenza, che trascenda la nostra singola esistenza e la proietti verso una catena di generazioni che si succedono passando il testimone. Questa è l'impasse, l'impasse in cui noi siamo. Io riassumerei questo impasse, non vi aspettate che vi dica come si supera l'impasse, non è il mio mestiere, non ne ho la capacità, se riesco a dare un minuscolo contributo è nella diagnosi, non nella prognosi, diciamo così, nell'analisi dell'impasse stessa, non del suo superamento. Io riassumerei tutto questo dicendo che noi fatichiamo a trovare una narrazione dell'Europa perché la narrazione dell'Europa, a differenza delle narrazioni nazionali che si costruiscono su una memoria selettiva che si avvale in buona parte dell'oblio ed è dunque una memoria edificante letteralmente che sceglie nella storia nazionale le parti migliori, le parti esemplari, gli eroi, gli esempi, dimenticando tutto il resto e che quindi proprio per questa sua capacità selettiva, per questa sua capacità di oblio è in grado di servire all'edificazione morale, pedagogica della nazione, a differenza di tutto questo, la memoria europea è memoria del male. Lo testimonia la nuova, migliore, secondo me, letteratura europea della mia generazione, che dopo quell'interruzione di cui parlavo prima, avvenuta da qualche parte tra gli anni 70-80, ha ripreso, ha rimesso al centro della propria narrazione dell'Europa e del mondo il Novecento che ci siamo lasciati alle spalle, ma privilegiando quasi sempre gli aspetti terribili, demoniaci, tragici del Novecento. Trascurando i risvolti epici del secondo conflitto mondiale, si è tornati a narrare per lo più la Shoah, l'Olocausto, la follia nazista, trascurando la risposta che comunque l'Europa ha saputo dare a quella ferocia, la resistenza, per esempio, la lotta di liberazione. Al centro, mi dispiace dirlo, ho un brivido mentre lo dico, ma mi sembra inequivocabile, al centro della memoria europea, oggi campeggia la figura di Adolf Hitler. E lui, tutto ciò che in lui si riassume, il protagonista della memoria del Novecento europeo su cui dovrebbe costruirsi la nuova identità dell'Europa. E sebbene questa memoria del male sia stata indispensabile ad una sorta di rito di purificazione della malattia che aveva afflitto lo spirito europeo, se rimane questo il fondamento della memoria dell'Europa, su questo fondamento sarà impossibile o addirittura difficile, se non impossibile, costruire un sequel. Io credo che l'Europa conosca una fase storica di indubbia decadenza e però credo anche che sul terreno d'Europa si stia ancora oggi conducendo qualche esperimento umano, non esperimento sull'uomo, ma esperimento dell'uomo, che è uno straordinario contributo alla civiltà che ancora l'Europa è in grado di dare. Penso per esempio alla coraggiosa ridefinizione dei ruoli maschile e femminile, materno e paterno, all'esperimento di una nuova idea di famiglia che si liberi, diciamo così, dai retaggi del passato e sia inclusiva di nuove possibilità che l'Europa sta conducendo e che nessun altro luogo del mondo sta conducendo come l'Europa. Per costruire però una narrazione fondata su questi aspetti anche, diciamo così, progressivi, io credo che dobbiamo regolare definitivamente i conti col passato e questa memoria dell'Europa che è memoria del male non può essere accontanata, deve essere consumata fino in fondo e poi ci sarà un sequel.